Non appena si lascia la valle stretta e si raggiunge l'altopiano sotto lo Schiller si allarga la vista L'aria è chiara, un nuovo giorno sta per cominciare In mezzo a questo paesaggio unico si trova il posto dove è bello fare vacanza Sentire la gioia di vivere nelle camere spaziose Godere la splendida vista Stare in mezzo alla natura La catena montuosa si erge in modo imponente come un ritratto di fronte a voi L'ambiente è perfetto Concedersi soste tranquille Lasciarsi viziare dalla cucina Magiche serate davanti al camino Siamo lieti di darle il benvenuto